Per chiedere un election day, l'accorpamento del referendum sulle trivelle con il primo turno delle prossime amministrative. È una misura di mero buonsenso che oltre a favorire la partecipazione democratica dei cittadini a un appuntamento così importante consentirebbe un risparmio di denaro pubblico stimabile tra i 350 e i 400 milioni di euro.